Sono 1.556 contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, dove si segnalano anche 8 vittime. Il tasso di positività cala lievemente, passando dal 20,33% di ieri al 19,03% di oggi. E gli ultimi dati, comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP della Regione Calabria, confermano anche il calo dei casi attivi. Adesso 84.635, con un numero di guariti superiori a quello dei nuovi contagi, 2.583. Gli isolati a domicilio sono 84.345, in netta flessione i ricoverati in area medica, con un meno 15, mentre cresce di 1 quello in terapia intensiva. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 2.943.826, con 357.883 positivi. Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza, più 578, seguiti da Catanzaro, più 434, Reggio Calabria, più 300, Crotone, più 133 e Vibo Valencia, più 98, mentre i restanti casi provengono da altra regione o Stato, più 13. processati 2.934.826 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 19,03%. Cento.